Allora, Crea2Learning con Joomla, installazione e configurazione del plugin Joomla per far comunicare efficacemente Moodle e Joomla. Quindi l'oggetto della lezione potrebbe sembrare Joomla e Moodle, ma in realtà non è Joomla e Moodle, ma è questo plugin che chiamarlo plugin forse è riduttivo perché è un vero e proprio componente che si installa su entrambi i software, quindi su Moodle e su Joomla per creare questo ponte tra i due. Ponte tra i due che ne abbiamo parlato molto durante le lezioni precedenti, durante la presentazione, serve ad espandere quella che è la caratteristica più importante di entrambi, quindi sapete molto bene, ormai lo saprete anche a memoria, Joomla è un CMS, quindi si occupa di contenuti, Moodle è un LMS, quindi si occupa di learning, si occupa di, in qualche modo, di gestione della formazione degli apprendimenti, ad ognuno manca una parte, Joomla, il plugin, questo plugin ci consente di inserire ad ognuno la parte che manca e questo consente di realizzare un prodotto davvero nuovo rispetto ai due, importante, che per alcuni, chi lo volesse classificare sarebbe un LCMS, Learning Content Management System. Allora, Joomla è stato sviluppato da Antonio Duran, che è questo ragazzotto che vedete qua in alto, lui è spagnolo, quindi vive a Madrid, all'interno del suo sito, che è raggiungibile dall'indirizzo www.joomla.com, è possibile comunicare con lui sia in inglese che in spagnolo. Sono fondamentalmente in due, anche se lui è lo sviluppatore, poi ha un'altra persona che coadiva con lui e devo dire che hanno un supporto davvero fenomenale per un prodotto che è fenomenale, soprattutto perché è gratuito. Joomla è rilasciato, è un prodotto open source chiaramente, è rilasciato con licenza GPL, quindi non ha nessun costo di licenza, ma normalmente per questi prodotti non si parla di costo di licenza, ma si parlerebbe di costo di supporto. Quindi, siccome c'è un grandissimo supporto, certe volte anche in tempi rapidissimi, il tutto è gratuito, secondo me lo sarà gratuito per poco, nel senso che c'è da dare anche merito a questi signori e quindi loro danno la modalità di qualche modo di sottoscrizione con un pagamento libero. Però ritengo che è arrivato anche il momento di dare loro spazio per per creare una sottoscrizione vera e propria. Dicevo quindi attualmente è sviluppato gratuitamente perché vi dico che probabilmente tra un po' diventerà sottoscrizione perché io l'ho seguito Joomla da diverso tempo, ormai sono tre anni che lo seguo, sono in contatto con Antonio, nel senso che faccio un po' da beta tester per alcune cose, per altre gli chiedo anch'io di sviluppare, infatti la versione 9.3 utilizza un piccolo componente che mi serviva e che non c'era, ho chiesto di Antonio di svilupparlo, l'ha fatto in tempi brevissimi, io l'ho testato ed è l'utilizzo anche di Akeba Subscription con Joomla. Quindi vedete come il rapporto è anche abbastanza importante con lo sviluppatore. Ma quali sono le principali caratteristiche di questo componente? Intanto la cosa più importante e direi anche la principale cosa per la quale si utilizza è il single sign on. Significa che avviene l'iscrizione e il login da una parte e questo login e questa iscrizione vale anche per l'altra parte. Normalmente il login avviene su Joomla e automaticamente l'utente logato passa anche su Moodle. Questo capite bene è uno dei vantaggi di avere un bridge, di avere un ponte, perché da questo punto di vista non dobbiamo chiedere all'utente di fare due volte la registrazione, di avere due volte un login e di fare due volte login e password. È un vantaggio molto molto importante. Va bene andiamo avanti. Allora poi un'altra caratteristica è quella del profilo centralizzato. Quindi normalmente l'utente crea il suo profilo, crea le sue indicazioni col profilo e queste valgono per ambie due i software. Fondamentalmente valgono anche per Moodle. Per tutto quello che vi dirò un riferimento importante è il sito insegnalo.it perché come già sapete tutto quello che sono state lo studio, la ricerca e l'applicazione questi anni li ho messe in pratica sul sito insegnalo.it. Per cui trovate dentro insegnalo.it un riferimento concreto su quello che è poi la realizzazione del nostro lavoro. Poi altro è Alessandro. I campi personalizzati dipende da come creo la registrazione. Perché su insegnalo.it la registrazione la facciamo tramite John Social. Quindi è John Social a gestire la personalizzazione. Io posso poi invece registrare gli utenti tramite la modalità nativa di Joomla. Quindi lavoro su Joomla. piuttosto utilizzare community builder. Vi rilancio anche al corso che è quello del social network con Joomla che va a individuare proprio questa parte di iscrizione e di gestione della profilazione. Quindi il corso quello di Creal to Social Network con Joomla tratta di questo argomento. L'altra modalità di... cioè l'altra caratteristica è quella relativa all'e-commerce. Spesso l'utilizzo dell'ambiente di integrazione di Moodle e di Joomla ha anche uno scopo commerciale come per esempio c'è su insegnalo. Joomla fa da ulteriore bridge per i software di e-commerce più noti. Virtual Mart, Tienda, Ica Shop o lo stesso Moodle. perché come ormai saprete Moodle può gestire l'iscrizione ai gruppi direttamente via Paypal. Qua c'è da dire che successivamente a questo corso ne terrò un terzo che è relativo all'e-commerce con Joomla che in realtà mette insieme il social network questo di qua dell'e-learning per creare una vera e propria piattaforma di e-commerce. Poi un'altra caratteristica è quella è la gestione dei corsi per minori. Qua da noi forse non è molto utilizzata, però in America molto, però è integrata quindi magari alcuni di voi possono anche utilizzarla, cioè la possibilità di iscrivere dei minori tramite un corso acquistato dai genitori. Poi utilizzare alcune funzioni specifiche di Moodle per questa attività legata all'utilizzo dei minori. E infine l'aspetto, un altro aspetto che è quello personalmente più importante, ma non perché gli altri lo siano di meno, ciao Giuseppe e benvenuto, è quello relativo all'integrazione di Joomla con software di terze parti. Più che software, sono componenti, chiaramente di terze parti. E qua ce n'è veramente tanti, tanti. Qua soltanto per esempio ci sono quelle che abbiamo già visto con l'integrazione del social networking, quindi Joom social, community builder. Poi ci sono quelli che vedremo con l'e-commerce che abbiamo già elencato. Poi altri aspetti, sitemap, la ricerca di Google. Adesso le vedremo perché sono veramente tante. Però quello che ritengo più importante per le attività che facciamo su insegno.it è Joom social. Con Joom social c'è un'integrazione praticamente completa. Allora, adesso cominceremo a vedere le caratteristiche principali, soprattutto vedremo l'installazione e la configurazione di Joomla. Non è un'installazione semplice. Direi che se si seguono i passi che io ho cercato di rendere più semplici possibili, isolandoli l'uno dall'altro, si arriva al risultato. Però non è scontato che questo risultato avvenga. Direi che ognuno di voi avrà questa settimana di tempo per provare. Io vorrei che voi provaste utilizzando un ambiente in locale. Perché utilizzando un ambiente in locale? Perché con Bitnami ho la possibilità di avere sia Moodle che Joomla configurati in maniera tale da evitare a qualsiasi problema lato server. Perché molto spesso i problemi nell'installazione non nascono dall'installazione del plugin, ma nascono dal fatto che il server che voi utilizzate non è adatto a ricevere questo plugin. Quindi che significa? Significa che non tutti web server, scusatemi, non tutti gli hosting e provider sono utilizzabili per giundle. Sicuramente il locale voi potete fare tutte le prove e sicuramente vi funzionerà. Quelli che non funzioneranno lo fanno per un motivo fondamentale ed è uno ed è il principale ed è questo. Questo che è chiamato XMLRPC. XMLRPC è un protocollo web che banalmente serve a far comunicare i due software. Questo protocollo non tutti i provider lo rendono disponibile perché chiaramente occupa per loro banda e quindi lo disabilitano. Vi dico subito che su Aruba non funziona, su Ergonet funziona sicuramente. Come vi rendete conto che il protocollo è abilitato? Vi rendete conto andando su Joomla nel pannello delle informazioni PHP, quindi dalla configurazione e qua dentro, oppure da PHP INI, se qualcuno ha un'installazione del proprio web server e qua se il protocollo XMLRPC è configurato vi trovate questa schermata. Oppure quando si va ad installare Moodle, lui tra i PHP extension mette anche XMLRPC e ci dice subito se il protocollo XMLRPC è funzionante o non funzionante. Allora, questo per dirvi che è importante che voi nelle vostre prove utilizziate Bitnami perché Bitnami sicuramente funziona. L'utilizzo sul vostro web server, sul vostro hosting provider non è detto che funziona. Se non vi dovesse funzionare seguendo tutte le indicazioni che vi darò durante queste due ore, aprite un ticket da Antonio Duran perché diciamo la maggior parte dei casi è un problema di hosting provider. Io ho poco da fare. Allora, torno un attimo indietro perché sono informazioni importanti. Vi apro subito la condivisione perché in questo modo vi faccio subito vedere alcune cose. Durante la condivisione io posso non vedere la vostra chat. Allora, sono qua sul sito di Bitnami perché è importante fare un'installazione che non è l'installazione che vi ho detto di fare l'altra volta. Allora, che succede? Che quando io vado ad installare per esempio Joomla, lui mi fa qua l'installazione di, beh qui mi richiede, aspettate che io mi logo, così che ve lo chiedo di fare l'installazione di, per esempio di Joomla, lui mi fa scaricare, perché lo ritiene, no non voglio che lo scarichi è partita automaticamente, lui mi fa scaricare direttamente il web server e il Joomla già direttamente installati, già direttamente installati e funzionanti. Non è questo che dovete fare, la stessa cosa vale per Moodle. Non è questa la cosa che dovete fare perché quello che ci serve è avere il web server di Bitnami, al cui interno, all'interno dello stesso web server, si vanno a installare Joomla e Moodle. Non li posso installare separatamente perché altrimenti non funzionerebbero. Quindi devo andare prima ad installare il web server di Bitnami che si chiama WAMP nella versione Windows perché sta per Windows, Apache, MySQL, PHP e quindi lo vado a scaricare da qua. Mentre nella versione, nella versione di Apple si chiamerebbe MAMP perché sta per Mac, Apache, MySQL, PHP. Quindi voi andate a scaricare il WAMP che sarebbe il web server e lo installate. Poi vi andate a installare non l'installer di Joomla o magari l'installer di Moodle, poi ci vado, ma andate qua dove ci sono tutte le opzioni di installazione download e vi date ad installare quello che lui chiama modulo. Ok? Come vi accorgete della differenza? La differenza è nel peso perché il modulo è 56K mentre l'installazione completa è intorno a 100, scusate, 56 Mega, mentre l'installazione completa qua non c'è scritto ma è intorno a 100 Mega. Quindi mi vado a installare quello che lui chiama application stack che sarebbe il modulo e me lo installo sopra il BitNami che avevo già preinstallato. Stessa cosa con Moodle. Stessa cosa con Moodle e qua mi installerebbe direttamente tutto configurato ma io non lo voglio tutto configurato. vado sulle opzioni di download e mi vado a scaricare invece quello che lui chiama qui il application stack, il modulo semplice modulo che va sempre sopra lo stesso BitNami. Quindi io alla fine avrò, questa è l'installazione, devo avere fondamentale l'installazione del MAMP, io sono del MAMP perché sono su Mac e voi avrete del WAMP, WAMP stack. Quando voi andate a fare qui go to application, lui va a aprire la pagina e qui sono sul localhost, quindi la pagina in locale del server ed è importante verificare che tra le application ci sia, vabbè qui l'application di PHP My Admin che è il gestore del database, ma che ci sia anche il Joomla module e il Moodle module. Se ce l'ho così, significa che li ho correttamente installati tutti e due all'interno dello stesso server. Questa è una condizione sine qua non per farli lavorare in locale. Questa è una condizione che può essere stato pubblicato, ma che ne ha un'arrollare in locale per la pagina. Questa è un'arrollare, qua è una condizione di fare che si è per il tipo di fare, e qui hanno un'arrollare, lo che hanno un'arrollare con le cangiorte, le cangiere, le cangiere, vizio a chiare un'arrollare e viaggio. Questa è un'arrollare, vediere, 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 vediere che la pagina, Questa è un'arrollare, per ieri, che per il modo di poterire i个-diere della pagina, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.